Come sarebbe? Tu credi veramente di essere Buzz Lightyear? Ma io pensavo che tu stessi facendo la scena. Ehi ragazzi, guardate! Vi presento il vero Buzz Lightyear! Mi prendi in giro o sbaglio? Oh no, 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 no. Buzz, guarda un alieno! Dove? Ah! Un grande amico in me Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli Ti basti solo ricordare che Che c'è un grande amico in me Di più di un amico in me Grazie a tutti